Anticipazioni Beautiful, martedì 12 novembre 2019 Bill è certo che Brooke voglia Taylor in prigione, ma lei lo nega. La sua rivale non ce la farebbe a sopravvivere in un posto del genere. Gli chiede un ultimo sforzo. Aiutarla a far ragionare Steffi e Liam non possono mettere a rischio la vita di Kelly facendola stare a contatto con la AIS. Bill ha preso molto le sue parole e poi le mostra il suo nuovo modellino sulla stessa proprietà destinata a Sky. Sorgerà un edificio indirizzato a qualche opera di bene. Dice di essere un uomo diverso e di volerlo dimostrare a tutti i costi. Liam intanto si lascia scappare di amare sia Steffi che Hope. Quest'ultima furibonda dice di non poter accettare una cosa del genere, proprio ora che sta aspettando un bambino da lui. Steffi è svalordita dalla reazione della sorellastra, ma non interviene, lasciando ai due il modo di chiarirsi. Liam sostiene di amare Hope. Naturalmente ama anche Kelly e questo non potrà cambiare mai. Con Steffi condivide un ruolo importantissimo, quello di essere genitori, e non può negare che le vuole un gran bene. Hope apprezza quelle parole, ma non può accettare Taylor nella vita della piccola che arriverà. Steffi difende la madre e la Logan, scioccata, se ne va. Lo Spencer rimasto solo con la ex le assicure che alla nascita della seconda genita gli equilibri non si spezzeranno affatto. Continuerà ad essere presente per Kelly, come sta facendo adesso. Hope rientra in casa e scopre che la madre è stata da Bill. Poi le racconta cosa è successo a Malibu. Ha ricevuto le rassicurazioni che voleva da Liam, ma sa per certo che Taylor sarà ancora presente nella sua vita e ciò la rattrista molto. Grazie.